Ciao a tutti da Angelo Bellandi per Progetto Giovani, Nassanio, Casa Marouk, secondo piano. Eccomi qua, oggi è giovedì 20 ottobre, andiamo incontro a un fine settimana pieno di cose. Ce ne sono molte nel mondo probabilmente, ma da queste parti innanzitutto vi segnalo che sabato sera, questo sabato sera, ci sarà il midnight che è cominciato settimana scorsa, ma non c'era molta gente. Per cui mi dicono, andateci, fate, ecco, ok, questa è una cosa. Mentre sempre sabato sera a Chiasso, al centro giovane di Chiasso, si terrà la festa dei centri giovanili ticinesi, con il freestyle contest, la finale ticinese, dove ci saranno anche i nostri ragazzi. Quelli che hanno fatto la, quelli che hanno fatto le, le, le semifinali qui al centro ragha brega, no? Che adesso, magari, tolgo questi, giustamente, e sono, matta, carraffo, sol e ene in bocca al lupo, ok? Ma lo scopo principale, per il quale mi trovo qui e volevo parlarvi, è che abbiamo una cosa notevolissima, la quale stiamo lavorando persino dall'anno scorso, pensate, qui a Massagno, alla sede delle scuole elementari, domenica, eccola qua, RC Massagno! Massagno! RC Massagno, domenica 23 ottobre, alle scuole elementari di Massagno, una giornata all'insegna delle automobiline, dei modellini radiocomandati in generale, degli elicotterini, degli aeroplanini, se ne avete portateli, con il gruppo, i nostri amici, con RC Massagno, con gli appassionati di chiasso, mini racing, mi pare, e con il negozio Carrara Modellismo di chiasso, ci saranno diverse piste, a partire dalle 14, 13, 30, 14, fino alle 7 di sera, ci sarà questa possibilità, innanzitutto per chi già ha un'automobile, la sa guidare, di portarla lì e di fare le sue gare su un percorso fuoristrada oppure su un percorso di pista, mentre con il negozio Carrara Modellismo di chiasso, avremo la possibilità, per chi non ha un'automobilina, non l'ha mai provata, che sia piccolo, che sia grande, non importa, di provare questa automobilina, di partecipare a una gara cronometro di abilità. Per i primi tre vincitori ci saranno, in paglio, di buoni acquisto presso il negozio Carrara Modellismo. I buoni sono offerti dal negozio e anche dal progetto Giovani, per cui vi attendiamo... Ecco, nel frattempo è arrivato Antonio, che arriva sempre a quest'ora, saluta. Ciao, ciao. Ecco, volevo dirvi che la musica, tra l'altro, nella manifestazione, sarà a cura di DJ Talpa, eh, grande animatore delle notate del barbanchetto e nel membriviotto. Quella migliore musica, ok, ciao. Yeah. Questa era la notiziona, che era un sacco di tempo che volevo dare. In caso di cattivo tempo, la manifestazione sarà posticipata alla settimana successiva, quindi a domenica 30. Ma noi sappiamo che ci sarà il sole. Questa era la notiziona. Angelo Bellaldi per Progetto Giovani Massagno, da Casa Marunca al secondo piano, rimane a vostra disposizione. Lunedì non sarò in ufficio, no, perché faccio un fine settimana che sono sempre in ballo, quindi lunedì non ci sono per nessuno. Tornerò martedì regolarmente e pubblicherò i miei orari. Stiamo lavorando molte cose di cui più avanti saprete. Di nuovo, ciao. no no Grazie a tutti.